Lo sai che da sempre gli animali sono vittime di violenze e di abbandoni da parte degli umani? Se hai il coraggio di fare del male agli animali, se hai il coraggio di abbandonarli, vuol dire che dentro di te c'è qualcosa che non va. Mentre l'abitudine del tempo si confonde con l'eternità, anche la nevrosi della gente si confonde veramente con la rabbia e sai che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Quando si fa strada nella mente una voglia di semplicità, dentro il mare e sopra il cielo un'altra ombra scende già, ma c'è qualcosa che non va, qui c'è qualcosa che non va. Le foreste tropicali spente diventano più povere la gente che non capisce, che non sa niente, si domanderà se c'è qualcosa che non va. Se c'è qualcosa che non va. Se c'è qualcosa che non va. A questo mondo ha bisogno di volare via, di fuggire per sempre da una strana follia. Se una spiaggia diventa solo nostalgia, puoi soltanto ritrovarla con la fantasia. Un angelo mi ha detto che il presente, per logica non va. Se c'è qualcosa che non è molto coerente, con quello che ha cercato di spiegare inutilmente a tanta gente, una volta un nuovo re. Nature che finiscono per sempre, c'è gli uomini che cadono qui giù. Qui c'è qualcosa che non va, qui c'è qualcosa che non va. Qui c'è qualcosa che non va, qui c'è qualcosa che non va, qui c'è qualcosa che non va. Le foreste tropicali spente diventano più povere la gente, che non capisce, che non sa niente e si domanderà, se c'è qualcosa che non va. Se c'è qualcosa che non va, se c'è qualcosa che non va. Se c'è qualcosa che non va, se c'è qualcosa che non va. Se c'è qualcosa che non va, se c'è qualcosa che non va.